Ciao ragazzi, sono Mellowflame, qui con un nuovo video, siamo sempre coppia di Pave, di Poncho Ok, siamo qui in un altro primo Volk Troop Sto facendo una missione finale di Fortnite 4 e DLC, la Valle degli Eti E niente, ascoltate Sì, sì, sono qui Grazie a Kira ti abbiamo trovato, il Sentiero d'Oro ti sta cercando da giorni Hai trovato la reliquia, è stata distrutta Non ancora, ci sto lavorando E il pilota è lì con te? No, lui non ce l'ha fatta Ah, capisco, ora è con Kira Dove ti veniamo a prendere quando hai finito? La reliquia è sulla vetta di una montagna chiamata Ajiura Amako Atama Ok, va bene La Ajiura Amako Atama è la montagna più riconoscibile della valle Ti troveremo Bene, a più tardi Stai attento Aji Il Sentiero d'Oro ha già perso troppi fratelli E qui comincia la missione La reliquia signori Dobbiamo specificare, io e Ponzo non l'abbiamo vista questa missione È tutta nuova, vi informiamo che la stiamo guardando da una posizione un po' diversa Questa è solo per voi, sempre per voi E per i big money Cosa, cosa è quale siamo? Vabbè Intanto Voi non lo vedrete ma noi ci qualche lag Offline Ci sono i lag anche offline Pazzeschi, incredibile Grazie Grazie Se non parte Marlo Che c'è l'altra, c'è l'altro C'è un capretto Un capretto Ma Marlo non uccide mai Chi non serve Chi guida prudente signore attenzione Ma guida bene comunque Cioè diciamo che ho visto Albero fuori Ho visto molto di peggio comunque Visione Visione sai se cascavo qua giù, facevo un volo guarda come questa ammirare la grafica di questi DLC no non serve neanche ricordarlo ragazzi, ricordiamo comunque Far Cry, miglior gioco 2015 eh sì per noi sì ma che cazzo sta succedendo? tanto si è buttato il cello Yeti che mi insegue, caldo qua e tu ovviamente cosa fai? scendi e scappa con l'arco, va scappando con l'arco tanto ragazzi impavido, lo Yeti cosa fa? raccoglie l'erba tanto ho voluto portare il book troop perché il gioco mi è piaciuto molto infatti che cazzo? sì what the fuck me? sì perché il gioco mi è piaciuto molto quindi ho ucciso insomma uccide gli Yeti così, così oddio ricorda gli animalisti che ci seguono cani cani io odio i cani intanto non sono cani, sono lupi ma vabbè insomma fanno sempre parte della stessa famiglia cani addestrati che laghi che si fa 3 minuti qui ha sparato il suono dello sparo c'è sotto un laghi dettagli dettagli ma voi ragazzi mettere attenzione è un fucile a pomba che spara 50 metri di distanza vabbè fattibile che cazzo oh cazzo oh cazzo decide così di morire no io non so cosa fare perché mi sta avendo la clip gli ha preso il panico gli ha preso il panico intanto il syringomone il syringomone si finisce il syringomone si finisce ecco qua mi sa che lo faccio ripartire fatemi di sono sempre le occhi che non si vogliono infatti si sta guardando un po' attorno infatti c'è un gruppo dietro anche l'orso davanti ricordiamo comunque a tutti gli animalisti che ci seguono che è tutto fizione dovete conto beh vada che hanno detto che fullcry non hanno potuto far vedere che spugliavano la pelle questa ragazzi è una chicca no io lo sapevo intanto ragazzi intanto ragazzi Fuzzo viene distrutto su Trivia Crack perde una partita in diretta in diretta con Pavi ragazzi incredibile ovviamente sono stato sponsorizzato se lo state chiedendo per sponsorizzare Trivia Crack scaricatevi tutti su Android e iOS Trivia Crack ragazzi incredibile intanto un altro Yeti Mellow Flame no potente rispettare quelli vicinanti tira un sasso che non serve un sasso tattico signori intanto mi sembra di aver visto un alpinista non c'era una persona come che altra volta avevo visto un castello niente niente stiamo vivendo il punto qui non c'è un animo vivo che è elevato stiamo veramente in taglia ma io direi se non c'è n'altro l'interessante di tagliare questa parte beh scusa indiretta signori indiretta però ragazzi è un walkthrough quindi non vogliamo tagliare più di tanto perché comunque quindi vi facciamo vedere intanto io direi di lasciare cento like signori cento like dopo gli ultimi traguardi direi che si può fare intanto qui come vedete sono in alta montagna e non c'è l'aria minghèo infatti devo prendere la masca del sistema perché sennò non voglio l'aria 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 dove la prende? l'aria dove la prende? l'aria dove la trovavo? l'aria dove la trovavo? l'aria 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 la l'aria la e per fortuna si salva così e per fortuna per me questa altura ma comunque anche le temperature sono elevate certo intanto ammazza i maglietti e cade giù attenzione e me lo chiude e me lo chiude è una zona gialla vecchia sentite ragazzi in sottofondo musica inebita in realtà è una scusa signori vi ho fatto vedere un po' la prova un camperato che voleva salvarsi non è stato fortunato voleva salvarsi questo mamma mia che bomber io ho sempre detto che non ha precisione sto omino che possesco aggancia le cose che è una roba veramente fantastica mi sa che hai capito il percorso da fare c'è così aveva fatto una cazzata guarda le rocce signori mi sembra giusto guarda capivo ho cercato di capire i percorsi ricordiamo che è un po' lento Marlow Flame si metto un pochino a finire i giochi ma che cazzo sta succedendo se non adesso è così ma si io direi qui c'è ci stava per adesso un range quit da parte di Marlow Flame stava per range quitare solo che qua non c'è abbandonato la partita come su Sinfrey spiderman 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 eh una volta mi chiedo come fanno la nostra spettacola ma che piazza allora ma sarà imbottito di tutel di tutel ma le porte le porte le porte non so se sono tante ragazzi ma la neve sembra proprio sembra proprio proiettile si in effetti si 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 ecco ma attenzione a Marlow Flame che ti fanno far cry attenzione a Shubit attenzione fanboy è un gran gioco è un gran gioco è un gran gioco si ragazzi proiettili infatti gli stiamo tagliando questo ragazzo è che stiamo andando è finito già il video? stiamo andando a non so ancora hai giunto non so 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 ma perchè ci sono sempre gli alpigli non capisci mai beh di solito cioè io prima di sbagliare vado dove ci sono i nemici e so dove ci sono i nemici praticamente sempre non so ok stiamo per raggiungere la vita della montagna quindi entrare ok chissà ma questa ma questa è la montagna che hai detto prima si la perché perché la domenica mi ha fatto non so non so non so non so stacca 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 copyright stacca diritti esatto oh soltapace metterci copyright un canale che ha 54 iscriviti incredibile siamo arrivati perfetto subito mi vietti così quindi subito armi pesanti oh che ti ha visto o anche tu non ha pietà marloflame non ha pietà ma che faccia altro lo vietti intanto non si cura mamma mia ragazzi non si cura non si cura non si cura ma perchè questa piovenza non ha visto mamma mia non ha visto non ha visto non ha visto nel cervelleno nel cervelleno e che non ha visto neanche tra l'altro famosa associazione o oh allora un organo come questo è vero non c'è un buon start esiste o vietti ditecela voi sotto i commenti scrivele i commenti ragazzi secondo me esiste eh ci spiego che esista e quindi io mi chiedo i for cry e secondo me esiste però intanto vediamo una cosa dunque silenzio silenzio siamo quasi abbiamo quasi raggiunto la porta del lander e come sanno tutti i tifosi di far cry la porta del lander poi ci porterà il lander di illuminati perchè e dove vedi i triangoli dove e cammina con mano vedi carattina qui non ma oh ma oh wtf man oh my god che big fail non ho vissi finis non ho vissi finis in realtà era tutto congegnato ma la cazzo intanto cosi perchè vabbè no da.. a parte di me ne è uscendo un cazzo da mezzo.. da mezzo morento di.. ok ha ucciso lo Yeti cosi perchè era giusto cosi ma.. è scoglia ma quella forse è la reliquia che dovrei distruggere dai che.. per pitcher full.. qualunque ragazzi qualunque 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 Tanto per cambiare uno Yeti Tanto ragazzi allucinazioni Ne avete visto i pochi in questo video Allucinazioni pesanti signori da eroina Si è appena fatto in piena guarda Si si ringa intanto Si ringa intanto pure ruina Già non ne ha preso abbastanza Perciò devo rimanere uninsetto Sì, questo è l'argo Sì, questo è l'argo Sì, non è l'argo E' un po' un gioco come l'argo Sì, non è spesso l'argo Sì, ok Sì, ok Sì, ok Sì, ok Sì, ok Sì, ok Ma lo flaming con l'arma più forte del gioco si trova in difficoltà Cioè Sì, è distrutto, morto Sì, è morto Si grappa la vita No, ha lo yeti Ah, ah, ah Basta ragazzi onto their own Cosa ho questi tuoi devi cambiare E... M wanna개 Emissioni TOG LIFE Da parte di Pablo Non sono tanto che restrutto la skin Il distributore di Eroinar Quella polla Quella sinaginale La tua via è con noi, non con noi. Vegliati e cammina con noi. E finisce quindi così signori, il finale più brutto di un DLC, eccolo qui per noi signori, non si capisce un cacchio solo gli sbattestrati come Mario Frame capiscono, finisce qui il finale più brutto di un DLC. Sì, questo incredibile video, è rimasto sconvolto Pavi ma vabbè, comunque questa era la valle degli Yeti, vi risparmio la discussione tra... A me è piaciuto. È un problema che mi piaccia non ha lo Flame. Mi ricordiamo che poi... Ma il senso di 4K è difficile da trovarlo perché è difficile. Grazie per aver giocato signori, è già finito. Vi ricordiamo poi che la prossima settimana andremo a New York e quindi vi porteremo qualche mini-vlog. Certo, ok. Bene, ti è finito, partiamo con la Flame. Pavi. E la pronuncia signori. E la pronuncia signori...